Ciao sono Antonio, imprenditore digitale, in questo video vediamo insieme i top prodotti di settembre 2021 da vendere in dropshipping quindi sono dei prodotti che sono stati cercati per appunto venderli in questo periodo dove ci stiamo avvicinando all'autunno e comunque possono essere dei prodotti anche ottimali per venderli non solo in questo mese ma anche nei mesi seguenti quindi tutto quello che riguarda il Q4 ovvero ottobre, novembre e dicembre che diciamo che è il periodo migliore per iniziare per fare veramente tante vendite e questo perché ovviamente c'è Black Friday, Natale, ci sono altre festività come il giorno del ringraziamento, Capodanno ci sono anche insomma Halloween, comunque quella magari è una festività più specifica per determinati prodotti ma insomma ci sono appunto vari modi per andare a guadagnare, per fare comprare alle persone specifici prodotti comunque adesso li andremo a vedere insieme e poi qui sotto in descrizione come al solito trovate Progetto Freedom che è il mio percorso di formazione sul dropshipping che vi spiega proprio passo dopo passo come andare a vendere proprio vari prodotti tramite il sistema di fulfillment del dropshipping quindi non dovete avere della merce già pronta, non dovete acquistare stock di prodotti in blocco quindi ad esempio 500, 1000 pezzi, assolutamente no in dropshipping vai a vendere prodotti singolarmente quindi ricevi un ordine nel tuo store e poi fai la spedizione al dato indirizzo del tuo cliente tramite vari fornitori, insomma poi ovviamente nel percorso di formazione tutto questo è spiegato passo dopo passo se volete maggiori informazioni appunto andate nel sito di Progetto Freedom che trovate in descrizione e capirete meglio comunque adesso direi di iniziare, allora il primo prodotto che ho selezionato per voi è la Weighted Best quindi sarebbe il giubbotto, quello zavorrato, quindi con i pesi che si possono mettere all'interno insomma sono prodotti adesso che andremo a vedere su Amazon, Amazon.com nella fattispecie comunque sono dei prodotti che possono essere venduti sì negli Stati Uniti ma anche ad esempio questo specifico in Italia va benissimo anche perché l'ho selezionato? L'ho selezionato perché adesso appunto ci stiamo sempre di più spostando verso l'autunno di conseguenza la gente dopo che ha fatto il periodo estivo dove magari si è rilassata, non ha fatto tanto allenamento adesso potrebbe riprendere proprio ad allenarsi sia ad esempio a casa propria così come in palestra quindi insomma il periodo invernale è quello dove molti fanno massa, insomma dove cercano di accumulare sempre di più volume insomma muscolare, quindi appunto questo è un tipo di prodotto adatto non solo per coloro che vogliono accrescere la massa muscolare insomma nel classico modo dei bodybuilders ma anche come vedete insomma per correre con questo peso in più per insomma sviluppare i polpacci se appunto è un qualcuno che va a fare corsa insomma ci sono vari modi per andare ad usare questo prodotto e se vediamo con il software Helium 10 le vendite mensili che fa possiamo vedere appunto tramite X-Ray quanto sta facendo di volume di affari quindi quant'è il fatturato mensile in descrizione trovate sempre il software appunto di Helium 10 che potete andare a scaricare quantomeno l'estensione Chrome gratuitamente quindi avrete questa estensione Chrome che potrete andare ad usare su Amazon su qualsiasi marketplace quindi per il mercato italiano, statunitense e tutti gli altri e così potrete vedere i fatturati mensili di tutti i prodotti che volete insomma questa appunto è un'estensione gratuita però non so se effettivamente ci sono dei limiti per chi ha soltanto il tipo di software gratuito insomma nel caso potreste fare magari solo poche ricerche mensili potreste avere dei limiti io attualmente ho la versione a pagamento e trovate anche i relativi codici sconto se volete acquistare questa versione a pagamento insomma trovate tutto in descrizione è un tipo di software veramente molto utile perché ti permette di fare anche una ricerca prodotto veramente molto approfondita comunque adesso vediamo insieme quelli che ho trovato io quindi adesso abbiamo questa veste che insomma fa dei fatturati veramente molto elevati quindi 39.000 dollari mensili, 62.000, 34.000, 135.000 eccetera eccetera quindi sono veramente dei fatturati molto interessanti questo significa che c'è molta richiesta per questo prodotto e dato che questo tipo di ricerca che faccio io è fatta su Amazon e poi ci sono altri modi per cercare anche i prodotti insomma è un prodotto più specifico per andarlo a vendere ad esempio tramite le Google Ads che spiego proprio anche all'interno del corso ma anche tramite le Facebook Ads però appunto con le Google Ads si è il tutto più facilitato perché basta andare a insomma arrancare insomma andare a creare una pubblicità per una specifica parola come può essere questa weighted vest oppure giubbotto zavorrato in italiano e insomma così si andrà a far arrivare le persone nello store tramite soltanto la ricerca che le persone possono fare su Google quindi non c'è bisogno di fare una creative e tutto il resto è un qualcosa che insomma a me piace fare ed usare Google Ads proprio anche per motivi come questi poi se si vuole fare invece una pubblicità su Facebook un prodotto del genere secondo me va benissimo anche con una creative soltanto ad immagine però appunto si può anche realizzare un video insomma si può andare a trovare qualcuno che fa il video per noi per poi andarlo a pubblicizzare proprio su Facebook però appunto per un prodotto del genere volendo anche solo un'immagine già potrebbe convertire bene poi abbiamo la Ballet Barro che sarebbe la sbarra di danza, la sbarra da ballo che appunto è un qualcosa a cui molti non fanno magari riferimento è un qualcosa di specifico legato proprio ad una nicchia e dato appunto che le festività quelle estive sono finite adesso la gente si va sempre di più riprendendo a fare i vari allenamenti e sicuramente questo è un ottimo modo per insomma andare a fare un tipo di disciplina che piace insomma a chi la va ad esercitare quindi sicuramente è un qualcosa anche con poca competizione perché appunto è un qualcosa proprio di specifico e quindi è per questo che ve lo posso consigliare sicuramente è interessante poi abbiamo appunto sempre X-Ray possiamo vedere il relativo fatturato mensile qui abbiamo 2300, 11.600, 14.000, 17.000, 8.000 eccetera eccetera 22.000, 62.000 insomma come vedete a seconda del venditore può fatturare di più o di meno qua stiamo parlando di Amazon ma con un nostro store in dropshipping possiamo fare altrettanto quindi ovviamente bisogna sapere come pubblicizzare il prodotto come creare lo store in realtà poi con Progetto Freedom avrete lo store già creato da me quindi avrete ovviamente questo vantaggio esclusivo e comunque appunto questo secondo me è un ottimo prodotto proprio per andare a approfittare in un periodo come questo poi abbiamo appunto un altro prodotto legato al fitness credo sia l'ultimo di quelli che ho selezionato appunto legati al fitness proprio perché come vi dicevo la gente si riprende ad allenare e quindi abbiamo l'acqua bag quindi la borsa quella con l'acqua con cui uno si può andare a fare insomma sollevamenti pesi come insomma i vari curl come al posto di usare il bilanciere può usare questo può insomma usarla per vari scopi anche questo insomma si può usare sia con un'immagine solamente ad esempio con una Facebook ads ma anche insomma con un video sicuramente anche più esplicativo insomma magari si fanno vedere tutti i vari usi che si può andare a fare con questo tipo di insomma oggetto poi ci sono anche vari tipi questi sono più legati al pugilato magari ma comunque più sotto vediamo che ce ne sono diversi sempre legati a questa borsa con l'acqua poi la variante sarebbe quella la borsa quella con la sabbia dentro quindi è un po' la stessa cosa e insomma potete optare per quella più adatta insomma al vostro tipo di pubblico anche e poi tutti i prodotti che vediamo adesso vanno benissimo per le Google Ads perché come vi dicevo Google essendo un motore di ricerca basta che cercano borsa ad acqua insomma acqua bag in America eccetera eccetera e trovano il vostro prodotto quindi sicuramente quello è ottimo e poi appunto su Facebook si può anche implementare una pubblicità che va a convertire varie persone appunto per quanto riguarda invece la sbarra quella da danza non vi ho detto come pubblicizzarlo secondo me questo non è un tipo di prodotto adatto per fare ad esempio su Facebook è una creative solo ad immagine ma è meglio fare proprio un video esplicativo che fa vedere il prodotto secondo me può creare di più un effetto wow creare tante interazioni quindi tanti like, commenti che vi fa appunto anche abbassare il relativo costo pubblicitario perché appunto Facebook vede che c'è tanto engagement da parte di quel dato prodotto e anche penso a varie madri che possono condividere quel prodotto sul loro profilo quindi condividono la vostra pubblicità a tutti i loro amici che hanno nel profilo e questo sicuramente è ottimo poi abbiamo un altro prodotto che è la Dog Jacket quindi insomma è il tipo di giubbotto per cani e questo praticamente è un prodotto ovviamente ottimo per andare a far riparare dalla pioggia insomma anche dal vento e tutto il resto i propri animali insomma in particolar modo qua stiamo parlando del proprio cane quindi magari quando uno si sta avvicinando all'autunno, all'inverno pensa ad un giubbotto classico invece è meglio focalizzarsi magari su un qualcosa anche legato all'animale domestico così anche ci sarà meno competizione sarà un prodotto un po' diverso rispetto alla media e sarà più facile andare a convertire le persone andare a guadagnare quindi da questo specifico prodotto quindi adesso vediamo anche X-Ray vediamo il fatturato mensile e qui praticamente vediamo che ci sono 33.000 dollari di fatturato 60.000, 27.000, 39.000, 23.000 e come vedete anche sono tutti grafici che partono da qui ovviamente con poche vendite perché è appunto il fatturato mensile degli ultimi 30 giorni adesso che sto registrando il video è il 5 settembre e quindi ovviamente ad agosto c'era poca richiesta di questo prodotto perché ovviamente le piogge erano inferiori insomma non c'era bisogno di usarlo c'era caldo e tutto il resto adesso che si sta avvicinando appunto settembre la gente pensa proprio ad acquistare questo prodotto e come vedete anche ci sono fatturati veramente impressionanti di 445.000, 715.000 dollari mensili quindi questi sono ovviamente dei fatturati se voi andate a strutturare un brand veramente solido tramite quel dato prodotto che andate a vendere ed è una cosa che si può fare appunto anche con un prodotto in dropshipping senza ombra di dubbio se non erro comunque prima non vi ho fatto vedere i fatturati dell'acquabago insomma della borsa con la sabbia insomma adesso ve li faccio vedere sono 14.000, 2.900, 4.700, 22.000, 14.000 insomma una media di circa 10-15.000 dollari scusate di fatturato mensile e poi per la borsa con la sabbia è più o meno similare il tutto un po' di più certe volte insomma a seconda sempre del brand, del dato venditore quindi 7.000, 36.000, 52.000 eccetera eccetera e adesso per concludere in bellezza vi faccio vedere un prodotto che è più tipico da Facebook Ads per dare quell'effetto wow che insomma può fare piacere alle persone sempre al solito per ricevere anche tanti like, commenti, condivisioni in modo tale da ridurre il costo pubblicitario che è importante con Facebook abbiamo in pratica lo spazzolone però fatto con una forma come se fosse una mazza da golf quindi un tipico prodotto anche da vendere ad un pubblico americano più che altro quindi anche se state mangiando vi consiglio di non vedere questo video ecco e di fatti qua fa vedere proprio l'uso del prodotto con questa creative proprio a video e di fatti fa vedere che pulisce molto meglio di uno spazzolone anche normale, classico perché insomma ha quella forma che ti consente di andare anche in degli spazi più difficili da pulire quindi anche serve per questo poi la forma ammazza da golf è solamente anche per fare piacere agli amanti appunto del golf e di questo sport questo prodotto si può trovare da vari fornitori in questo caso ho preso un'inserzione a caso su Aliexpress insomma la prima che mi capitava a tiro e qui appunto lo possiamo prendere ad esempio a 12 dollari e 38 con la spedizione anche gratuita insomma poi ce lo vanno a spedire ovviamente quello che consiglio è di andare ad usare magari dei fornitori non tanto come Aliexpress ma ce ne sono veramente tanti che vado a divulgare all'interno di Progetto Freedom quindi su questo non potete avere problemi ci sono tanti fornitori anche italiani per vendere appunto al mercato italiano e avere una spedizione molto molto veloce quindi anche 1-2 giorni e poi insomma ci sono tutti i fornitori americani oltre che appunto anche cinesi per chi vuole insomma ci sono tanti modi per avere anche spedizioni molto veloci in maniera internazionale quindi in tutto il mondo detto questo se volete capire bene come andare a creare un vostro store di successo in dropshipping potete accedere a Progetto Freedom trovate il link nel primo commento oppure nella descrizione e da lì appunto avrete insomma maggiori dettagli vedrete quali sono anche tutte le varie lezioni presenti nel corso ci sono i moduli che poi comprendono tutte le varie lezioni e quindi potrete vedere che ci sono tanti metodi che vado spiegando quindi c'è appunto la possibilità di avere un proprio store e vendere facendo pubblicità quindi il metodo classico per fare dropshipping poi c'è il metodo di vendita anche su ebay che è sicuramente molto interessante poi anche il metodo sempre usando TikTok quindi sempre dovete avere un vostro store di e-commerce per poi vendere quel dato prodotto non facendo pubblicità quindi potete benissimo anche creare un video che poi può diventare virale sfruttando appunto le tecniche che vi vado spiegando nel corso così appunto da avere un video che poi su TikTok in maniera organica quindi raggiungendo traffico gratuito vi vado a fare tante vendite proprio nel vostro store poi ci sono vari metodi anche con i reels di Instagram con i YouTube Shorts insomma spiego veramente di tutto e di più per andare a guadagnare tramite il business del dropshipping che è quello di cui mi occupo ormai da anni quindi insomma se volete potete andare in descrizione trovate anche Helium 10 come vi dicevo il software per vedere i vari fatturati dei prodotti e comunque con questo direi che è tutto noi ci vediamo all'interno di Progetto Freedom ma